per sapere se si sta male per il coronavirus si fa il tampone con un bastoncino morbido per fare il tampone il bastoncino viene messo nel naso nelle due narici il tampone si può fare in farmacia con l'aiuto dei genitori mamma e papà in farmacia con mamma o con papà per fare il tampone arriva un dottore i dottori sono esperti di tamponi e possono indossare guanti protezione sul viso mascherina camice bianco o colorato questi accessori servono a proteggersi dal covid anche quando si va in farmacia a fare il tampone per fare il tampone si può stare anche in braccio alla mamma è importante alzare la testa e metterla all'indietro e provare a rimanere fermi e calmi le mani restano ferme e giù se si vuole si può anche tenere in mano un oggetto preferito se si resta calmi fermi con le mani giù e la testa all'indietro tutti saranno contenti e si potrà tornare a fare le cose preferite grazie a tutti